Colpo Isernia nello staff tecnico un pezzo da 90, Mimì Farrocco sarà affiancato da Vincenzo Sasso, allenatore professionista, match analyst, collaboratore di Stramaccioni e Stankovic, ex Inter, Udinese, Panatinaikos, Stella Rossa Belgrado, nell'ultima stagione con il tecnico serbo alla Sampdoria. La direzione tecnica della squadra Bianco Celeste è affidata a Domenico Farrocco, ex Volturnia, da alcune stagioni nelle giovanili del club. Farrocco si avvarrà dei preziosi consigli di Sasso e del lavoro del preparatore atletico Gianluca Primavera e del preparatore dei portieri Edoardo Taglienti, riconfermato al suo quarto anno consecutivo col Isernio. Dunque, uno staff tecnico di primissimo livello che va a fugare ogni dubbio sulla qualità della proposta del presidente Francesco Paolo Traisci. La piazza rumoreggia la presenza di Sasso nello staff tecnico e una risposta chiara agli scettici. Mentre la squadra sarà giovane e sarà allestita dal consulente di mercato Antonio Silvestri, procuratore che affiancherà Traisci e Palmegiano nella campagna di rafforzamento estiva e in quella di riparazione.